Stop all'ora legale, lo chiede la Commissione europea in una proposta attesa per le prossime ore, che verrà poi sottoposta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo. A darne notizie è stato Jean-Claude Juncker con un tweet e un'intervista al canale TV tedesco ZDF. 4.600.000 cittadini hanno risposto ad una consultazione online dell'Unione sul tema. I risultati non sono stati ancora ufficializzati, ma sembra che l'80% abbia espresso il suo favore. Dopo che lo si è chiesto non si può ignorare il parere della gente, ha detto Juncker. Solo che, secondo indiscrezioni, i due terzi dei partecipanti al sondaggio sono tedeschi. Ad accendere il dibattito sono stati i paesi del nord e centro Europa, ritengono superata la ragione del risparmio energetico per spostare in avanti le lancette dell'orologio e invece evidenziano problemi di salute pubblica come il disturbo del sonno. Puntuale è arrivato il tweet di Matteo Salvini. La Commissione lavora tanto per eliminare l'ora legale, ma se ne frega di lavorare per un'immigrazione legale.